Armati di coltello e con i volti coperti dai passamontagna si sono introdotti in un supermercato alla periferia di Margherita di Savoia minacciando la cassiera e facendosi consegnare il denaro presente in cassa. Sabato sera di paura nel Conad di via Ferruccio Parri dove poco prima della chiusura due malviventi sono entrati in azione riuscendo a portare via 600 euro in contanti. Immediato l'intervento di una pattuglia di carabinieri che ha messo in fuga la coppia di rapinatori scappata a bordo di due biciclette. L'inseguimento dei militari prima per le vie della città poi attraverso i lidi del lungomare ha prodotto l'arresto di Francesco Ciminiello 44 anni margheritano già noto alle forze dell'ordine per vecchi precedenti legati a detenzione e spaccio di droga. Il suo complice è riuscito a fuggire facendo perdere le sue tracce ma i carabinieri potrebbero presto giungere alla sua cattura. Ciminiello è invece finito in carcere su disposizione del magistrato di turno della procura di Foggia.